ben tornato a trento a gabriele nelli è stata un'estate lunghissima con la nazionale però hai trovato diverse soddisfazioni questa medaglia e la dimostrazione si è stata un'estate è molto impegnativa che ci siamo allenati tutta l'estate i risultati si sono visti questo è stato un grandissimo bronzo meritato da tutta la tutta la squadra e i sacrifici si vedono e siamo contenti così la tua storia con le nazionali giovanile particolarmente fortunata mi riferisco alla medaglia d'oro gli europei alla medaglia di bronzo under 21 e alla medaglia di bronzo under 23 insomma qualcosa porti sempre a casa sì per fortuna dai almeno facciamo belle figure siamo siamo sempre sul podio e queste sono le grandi soddisfazioni dei lavori in palestra che che facciamo a livello personale è stato per te un ottimo mondiale lo dicono anche le statistiche terzo bomber secondo battitore insomma la tua crescita già evidenziata durante la scorsa stagione è proseguita t'ha fatto bene questo anno di superlega con stoice e con tanti giocatori importanti si è stato un anno molto impegnativo a livello a livello di palestra di lavoro sono contento così e quest'estate è andata veramente molto bene e questo podio ce lo siamo meritati sono contento di questo mondiale ho fatto un gran mondiale e adesso il duro lavoro ricomincia con la trentino volley ecco però riremo la tua causa chiederemo a stoicevi di farti rifiattare almeno per un paio di giorni perché poi con tre giocatori solo a disposizione ci sarà bisogno di te sarà una prima parte di preparazione alquanto particolare sì adesso dopo un'estate così dai qualche giorno di relax farebbe bene poi tutti quando ricominciamo riprendiamo a grande a grande carico il lavoro e pronti per una nuova stagione in maglie trentino volley che idea ti sei fatto della nuova squadra ma dai una squadra giovane sicuramente vogliamo fare tutti molto bene tutti tutti i ragazzi che vogliono vogliono dare dare il loro massimo e e vediamo come come andrà tutta la scuola andrà la stagione bocca al lupo crepi grazie a tutti